Amici e amici di Rossini TV benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini, vi state abituando ormai a questa nuova formula che abbiamo approntato per la seconda stagione di questa nostra fortunata trasmissione, una formula più slim, più snella che prevede un ospite a puntata. Colgo l'occasione anche per ringraziare Tiziano Donzelli che ci ha aiutato a allestire come già nella scorsa stagione il nostro studio e do il benvenuto all'ospite di oggi Pierpaolo Bellucci, Pierpaolo buongiorno. Buongiorno Paolo, grazie a Rossini TV per l'invito che mi fa molto piacere. Pierpaolo Bellucci è qui in quanto, oltre che amico di vecchia data, in quanto coordinatore didattico del centro studi Pesaro, è un bel ruolo di responsabilità, abbiamo fatto una chiacchierata per introdurre un po' i vari argomenti e capire come muoverci, è una bella responsabilità essere il coordinatore didattico ma anche essere un po' il portavoce visto che sei qui anche a raccontarci invece del titolare, dell'ideatore del centro di Giovanni Lamedica che ha fondato questo centro qualche anno fa, nel 2015 se non sbaglio, e che lo sta portando avanti con grande successo direi. Sì, io innanzitutto porto i saluti di Giovanni Lamedica che è il direttore del centro studi appunto da lui fondato nel 2015 e anche dello staff e degli insegnanti perché poi siamo un bel gruppo di giovani, tutti under 40 che appunto insegniamo e portiamo avanti questa realtà. Tu hai anche tre cattedre se vogliamo, docente di scienze umane, filosofia e discipline sportive, che curioso abbinamento! Ma diciamo che, allora io innanzitutto lavoro al centro studi inizialmente come insegnante poi anche dall'anno scorso come coordinatore didattico dal 2017 e essendo un laureato in scienze politiche, diciamo mi sono dedicato subito a scienze umane, cioè sociologia, filosofia, un periodo insegnato anche diritto economia e poi siccome sono uno sportivo, un ciclista in particolare, mi sono specializzato ultimamente nell'ambito sportivo perché sempre più ragazzi chiedono anche il liceo scientifico sportivo. E c'è insomma da fare perché poi il tipo di attività che voi proponete ha un ventaglio di proposte molto molto ampio, si va dalla proposta di veri e propri percorsi scolastici soprattutto dedicati a chi ha tempo in orari diversi per capirci, magari mi segnalavi qualche sportivo, qualcuno che lavora, che ha impegni magari già anche lavorativi che lo impegnano negli orari che di solito vengono dedicati alla scuola, insomma diciamo ci sono esigenze diverse e voi riuscite a fronteggiare anche questo tipo di esigenze. Sì, diciamo che la nostra organizzazione prevede i corsi collettivi al mattino solitamente frequentati da ragazzi in età scolastica e in orario pomeridiano ma non solo, diciamo su base individuale che è più precisa come definizione, noi facciamo preparazione scolastica ma anche assistenza universitaria e diciamo in una maniera che definiamo sartoriale, cioè cucita su misura delle esigenze dello studente che può lavorare, che può essere come ci è capitato tante volte, uno sportivo di alto livello o una persona impegnata nel mondo dello spettacolo, quindi sovente fuori peso o comunque fuori zona per impegni di lavoro e quindi può fare lezioni su base individuale al mattino, pomeriggio e anche in forma online. Questo ci ha consentito di allargare il nostro raggio d'azione. Questo dell'online è un po' il regalo, se vogliamo, del Covid. Diciamo che il Covid che ovviamente nessuno di noi può dire che sia stato il benvenuto perché ha portato problemi e difficoltà e ancora ne presenta veramente a tutti, a tutte le fasce di età, di lavoro, le classi sociali e tutto quanto, però in realtà qualcosina qua e là sta lasciando di positivo e tra queste cose c'è questa inversione in qualche modo di prospettiva. Chi prima magari era un po' più prevenuto nei confronti di un discorso di assistenza online di vario genere si è dovuto ricredere perché ha dovuto fare di necessità virtù magari attraverso l'obbligo che è arrivato con la DAD oppure con lo smartworking eccetera e adesso si accorge che magari si può utilizzare anche non per obbligo. Sì, secondo me, parlando diciamo in generale, chi ha vissuto il tempo del Covid volendoci cercare un'opportunità è uscito o sta uscendo da questo periodo con del gas in più, con un'accelerazione, con delle opportunità in più, a prescindere dal settore nel quale lavora. Penso che sia stato anche il nostro caso perché io ricordo che abbiamo dovuto sospendere le elezioni il 26 o 27 febbraio del 2020 con la prima ordinanza della Regione Marche e abbiamo passato 7-8 giorni nel non sapere che cosa fare, dopodiché abbiamo detto noi siamo una scuola comunque sia privata, dobbiamo dare un servizio, non possiamo trincerarci dietro un'ordinanza, dobbiamo pensare a altre formule. Insomma, il 13 di marzo eravamo online con un orario settimanale di 20 ore al mattino e al pomeriggio con le ore che dovevamo fare con i vari studenti, tutto online, che chiaramente abbiamo perfezionato poi nel corso delle settimane e abbiamo perfezionato soprattutto l'anno scorso quando dall'inizio di novembre abbiamo dovuto risospendere di nuovo e ci ha dato l'opportunità già dalla scorsa primavera ma in particolare da quest'anno di offrire proprio un servizio di preparazione solo online che è anche di qualità perché attraverso le piattaforme video per le lezioni in diretta oppure attraverso le lezioni asincrone, cioè lezioni inviate sostanzialmente con poi dei momenti di confronto ovviamente con lo studente, si riesce a fare una didattica che ha i suoi risultati. Voi siete anche sede amministrativa della famosa Unicusano di cui in questi giorni vediamo tanta pubblicità e forse questo è il momento giusto e tu sei la persona giusta per chiederti esattamente di cosa si tratta perché ovviamente la pubblicità fa girare il nome, fa girare il marchio, fa capire in linea di massima di cosa si parla, però abbiamo qualche minuto nel quale possiamo anche spendere un po' di parole per spiegare un po' meglio perché è così importante. Sì, il rapporto con l'Università Telematica Nicolò Cusano di Roma è nato poco prima del Covid, ha vissuto un momento di pausa proprio per via del Covid, è ripreso diciamo da qualche mese e in particolare da quest'anno con tra l'altro le prime iscrizioni. È un'università che ha una formula anche in presenza a Roma, ma diciamo ha una formula che è quella principale telematica, cioè su una piattaforma video sia di lezioni sia di fornitura dei materiali didattici, che è assolutamente adatta per lavoratori, ma anche per giovani che magari per mille motivi non vogliono trasferirsi a Roma per tre o quattro anni e vogliono fare un'estate a casa. Ha una organizzazione tutta particolare che consente allo studente di rimanere in corso, possiamo dire, con una maggiore facilità e noi come Centro Studi Pesaro siamo sede amministrativa, cioè noi diamo le informazioni e procediamo alle iscrizioni, illustriamo il funzionamento di questo Ateneo Telematico, possiamo anche guidare diciamo nella scelta di quella che è la facoltà e dopodiché lo studente è guidato telematicamente da tutta una serie di assistenti, tutor che sono dell'università. Per cui voi non seguite più a quel punto il percorso dello studente, a meno che lo studente non venga a cercarvi per le sue difficoltà, oppure c'è comunque in qualche modo un tipo di assistenza una volta che uno si è iscritto a Unicosano appoggiandosi alla vostra sede amministrativa? Allora, noi facciamo della disponibilità, il nostro biglietto da visita sempre e non manderemo mai via nessuno senza quantomeno un tentativo di risposta, dopodiché il nostro compito è solo di carattere amministrativo con Unicosano e invece facciamo assistenza universitaria in tutto ciò di cui lo studente può avere bisogno, pensiamo ad assistenza sugli esami, ad assistenza più di lungo periodo, cioè seguendo addirittura un anno accademico, oppure l'assistenza sulla redazione delle tesi. Per studenti di qualsiasi facoltà, o quantomeno delle principali facoltà, adesso non abbiamo ancora mai sperimentato l'assistenza universitaria in ingegneria aerospaziale, però quelle che sono le comuni facoltà le svolgiamo senza problemi. Diciamo che allora possiamo incassare e mettere lì questa scelta di Unicosano di utilizzarvi come sede amministrativa come titolo di merito, cioè sicuramente se vi hanno scelto e se hanno fatto questa cosa voi siete affidabili e loro si fidano di voi, per cui è un titolo di merito da mettere assolutamente lì. E poi per il resto invece le vostre attività si svolgono in via Montello a Pesaro che pochi sanno, tutti ci sono passati, però pochi sanno che è quella via lì, perché sicuramente secondo me in quel pettettino di strada tra via 11 Febbraio e via Bramante per girare prima di arrivare, è quella lì la strada, ci sono passati tutti secondo me. In realtà nell'edificio nel quale noi siamo, che poi è l'unico civico della piccolissima via Montello, traversa di via 11 Febbraio, in tanti vengono perché c'è la commissione tributaria, ci sono alcuni ordini professionali, quindi è un palazzo frequentato. Noi siamo lì da aprile 2019, prima eravamo in piazzale Matteotti ed è una location assolutamente idonea a quello che è il nostro servizio perché è molto vicina alla stazione ferroviaria quindi ci consente di servire in maniera ottima anche i ragazzi che vengono da fuori, perché non abbiamo solo un bacino pesarese di Pesaro, ma andiamo da Riccione a Cenigallia, più l'entroterra, perché ecco appunto i nostri servizi sono richiesti anche da persone di fuori. E lì ci sono le aule, voi tutte le mattine, insomma è una scuola per essere chiari, per far capire bene insomma. È una scuola dove diciamo le parole chiave sono lezioni in piccoli gruppi per ciò che concerne le lezioni del mattino, ovvero i ragazzi hanno aule legate alle materie che svolgono, un'aula di matematica, una di italiano, una di scienza umana e via dicendo, ma si ritrovano sempre in piccoli gruppi, al massimo potranno essere in 7 e 8, al massimo, ma spesso sono in 3 o 4, 2, 3, 4 persone, perché questa didattica in piccoli gruppi ci consente di svolgere con maggiore chiarezza anche il famoso due anni in uno, dove per ovvie esigenze bisogna essere più sintetici, ma allo stesso tempo chiari il piccolo gruppo è funzionale a questo. Quindi le lezioni collettive sono da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e poi abbiamo tutto il discorso individuale. Altre parole chiave che valgono per tutti, sia per gli studenti del mattino, quindi la scolastica, sia per coloro che fanno la didattica individuale è no competizione, no competizione, perché ci siamo accorti di anno in anno che se si vanno a togliere quelle dinamiche competitive tipiche di vari contesti, scolastici non solo, i voti, le prove, le verifiche, le interrogazioni, l'ansia derivante dall'aspettare questi momenti, la competizione tra compagni, quello che prende delle insufficienze, quello che arriva al 6 risiccato e via dicendo. Se togliamo tutti questi ingredienti, il ragazzo ritrova passione nei confronti dell'indirizzo che ha scelto. Non è vero che ai ragazzi non gli piace la scuola, non hanno voglia di studiare. Ragazzi molti, diversi, vivono male il meccanismo competitivo che è insito nella scuola, ma è insito anche un po' nella vita, non vogliamo criminalizzare nessuno. E quindi perdono interesse e perdono fiducia, togliendo questo meccanismo la riprendono. Abbiamo assistito a delle trasformazioni incredibili nell'arco di alcuni mesi di ragazzi e di ragazze che si erano bloccati. E qui ci sta anche in pieno l'essere unità specifica per BES e DSA che siete dal 2020, perché qui siamo ovviamente tutto dall'altra parte rispetto a qualunque aspetto competitivo della scuola. Sì, quella è un'opportunità che abbiamo sfruttato, in particolare sulla quale ho insistito anche personalmente facendo un ottimo corso con la cooperativa Labirinto un paio d'anni fa, che mi ha dato e ha dato anche alle mie colleghe la capacità di intervenire con le difficoltà di apprendimento, la dislessia, la discalculia, i disturbi dell'attenzione, che sono degli aspetti che spesso le famiglie e i singoli studenti vivono quasi come se fosse un handicap, ma non si parla assolutamente di questo. Non è vero che sono delle limitazioni, sono delle diversità. Se si adatta la didattica con lo studente che ha difficoltà di attenzione, con degli stratagemmi appositi, quello studente può stare al passo degli altri. e anche questa cosa ci ha consentito di lavorare meglio, soprattutto di comprendere meccanismi che prima non comprendevamo, parlo in particolare del mio caso specifico. È molto interessante perché fa capire proprio il livello con cui avevi aperto, cioè questo livello sartoriale, cioè andare a scegliere e andare a cucire in qualche modo un abito addosso a quelle che sono poi le esigenze di quelli che si approcciano e che vengono a trovarvi, insomma. Mi viene la curiosità di chiederti qualche aneddoto se c'è o qualche stranezza, cioè diciamo sull'assistenza stiamo parlando di quelle che ai tempi miei si chiamavano le ripetizioni, vado a ripetizione un po'. Allora, le cose più strane che possono essere capitate, qualche materia particolare, mi hai detto no, ingegneria nucleare al momento, ma qualche corso particolare, qualche momento speciale insomma che ti è rimasto impresso? Ma diciamo che di momenti speciali ne sono capitate, ne sono capitati diversi. Diciamo che le soddisfazioni sono state tante e personalmente, qui rispondo sul piano personale perché poi ognuno di noi ha la sua esperienza specifica, non voglio parlare per conto di altri, a me ha dato molta soddisfazione poter affiancare gli sportivi nel loro percorso creando in tante occasioni anche degli orari personalizzati, cioè c'era il giocatore della Vispesaro un paio d'anni fa che il mercoledì faceva la doppia seduta con la squadra, ovviamente non è che gli potevo dire io, guarda il mercoledì non andare all'allenamento perché lui è venuto da me apposta, da noi apposta e quindi abbiamo cambiato l'orario considerando che lui il mercoledì non veniva. Oppure ci è capitato di fare didattica con una ragazza che tra l'altro sta avendo un ottimo percorso nel mondo dello spettacolo e noi abbiamo assistito a questa crescita. a un certo punto è come da qualche sfilata, da qualche impegno è diventato che doveva andare a stare a Milano, ma anno scolastico in corso, quindi una settimana all'altra e io dalla lunedì non ci sono più, però sei iscritta da noi, però l'esame lo devi fare a fine anno e quindi abbiamo portato tutto in maniera asincrona, non in diretta, online. Insomma è ovvio che quando uno dice facciamo così dentro di noi non è che c'è la certezza che tutto vada in porta, vai anche un po' per esperimenti e sono stati esperimenti riusciti. E questo consolida un metodo, una fiducia in un metodo, una fiducia in un nome che è quello del Centro Studi Pesaro, che è quello di cui abbiamo parlato fino adesso e col quale stiamo concludendo. Pierpaolo, noi stiamo concludendo. Ti do i soliti 30 secondi per catturare ancora di più l'attenzione del nostro pubblico su quello che è la vostra attività e farli incuriosire ancora di più rispetto a tutto quello che abbiamo detto in questi 20 minuti. Allora, io vado con quello che i nostri ascoltatori potranno riscontrare visionando la nostra pagina Facebook e il nostro account Instagram Centro Studi Pesaro. Proprio in questi giorni abbiamo una serie di post intitolati vuoi cambiare scuola con la lampadina dell'idea. Perché? Perché noi abbiamo attivo anche un servizio di orientamento scolastico. Cioè capita tante volte lo studente ha scelto la scuola a 14 anni e si accorge in terza che quella scuola non gli piace. Sei in terza? Ma io dico sei all'inizio della quarta? Sei ancora in tempo per cambiare scuola. Quindi noi facciamo una chiacchierata e vediamo cosa possiamo proporti perché tante volte si può passare da un tecnico a un liceo senza eccessivi traumi e viceversa. E quindi l'inizio di novembre è un momento buono per ancora correggere il tiro. Quindi diciamo attraverso tutti i nostri recapiti che trovate sui social o venendo direttamente in via Montello 4 possiamo fare conoscenza. È un mondo dove l'oramai non esiste. Ormai sono in terza, non esiste anche perché se ahimè vi state rendendo conto che avete sprecato tre anni non ne sprecate altri due voglio dire. Cioè intervenite in tempo. Ottima, ottima cosa che mi colpisce. Non ci avevo pensato. È sicuramente un bel messaggio da mandare a casa. In questo momento poi è perfetto. Per Paolo grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Naturalmente noi siamo a disposizione per qualunque aggiornamento che vorrai portarci da parte del centro studio di Pesaro e su qualunque novità. Ringraziamo te, ringraziamo Giovanni Lamedica che ha ideato questo centro e che ci ha chiesto di fare questa chiacchierata con te perché evidentemente in te ripone grande fiducia e fa benissimo. E ringraziamo tutti i nostri telespettatori per essere stati con noi anche oggi in questa puntata di Casa Rossini. Li invitiamo a seguire una delle numerose repliche se comunque non l'orario nel quale noi andiamo in onda, in prima messa in onda cioè alle 19, non fosse consono con le vostre esigenze e vi invitiamo a restare sempre e comunque all'ascolto in visione dei programmi di Rossini TV. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima puntata. Grazie per Paolo ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.